Prima di avviare il video, un gentile promemoria, assicurati di premere il tasto Iscriviti e di lasciare un Mi piace. Grazie. In queste ultime ore, un tragico lutto ha colpito il mondo di Miss Italia. Con profondo dolore, diciamo addio a Marisa Iossa, la prima Miss Italia del 1959 durante la gestione di Enzo Mirigliani. La sua scomparsa avvenuta a Napoli, all'età di 85 anni, ci lascia tutti sconvolti. A 76 anni, Marisa era stata coinvolta in un grave incidente stradale, investita da uno scooter nel quartiere napoletano del Vomero. La sua vittoria a Ischia nel 1959, a soli 21 anni, fu un evento memorabile con 34 ragazze in competizione. Marisa, di origini greche, conquistò il titolo accompagnata dalla madre Anna. La stampa dell'epoca la descrisse come una bellezza naturale che non passava inosservata per strada. La premiazione includeva un milione di lire, ma la fortuna sorrise ulteriormente a Marisa, poiché pochi giorni prima la piaggio aveva messo in palio una vespa, che fu sua. Oggi, ricordiamo con affetto e gratitudine la sua presenza indimenticabile nella storia di Miss Italia.